Trekking in completa sicurezza sui monti abruzzesi con le guide L'Agap. Oltre alla comprovata conoscenza del territorio, comprese le insidie e le guide ambientali escursionistiche, ogni 24 mesi sono obbligate alla formazione e all'aggiornamento professionale. Quest'anno il training è stato ospitato a Pesco Costanzo, nella sala conferenza dell'auditorium San Nicola, incentrato sulle manovre di primo soccorso e l'utilizzo del defibrillatore. L'amministrazione comunale ha voluto fortemente questo corso qui a Pesco Costanzo, sempre perché è sempre attenta da anni sulla questione sanità, sul fornire dei servizi essenziali, come la sanità qui nell'Alto Sangro, ma il discorso si allarga a tutte le zone interne della nostra regione, perché sappiamo tutti che gli ospedali sono sempre più ridotti all'osso, a parte quelli nelle principali città, e quindi questo non è un risolvere il problema, è un sottolineare ancora di più l'importanza di persone preparate, ma anche appunto sottolineare il fatto che non basta, bisogna appunto riprendere in mano la sanità e dargli sicuramente un'organizzazione più capillare, proprio per salvaguardare la vita di chi vive e di chi viene in viraggiatura in questi posti. Le guide giunte da varie zone della regione hanno dato prova della gestione di un'emergenza sanitaria davanti al responsabile del servizio 118 della provincia dell'Aquila, Gino Bianchi. Al termine del corso il dirigente sanitario ha rilasciato l'attestato di idoneità ad ogni frequentatore. Le fasi sono state quelle del soccorso a persona, soccorso qualificato, soccorso alle funzioni vitali, quindi massaggio cardiaco e respirazione artificiale. In più il possesso del defibrillatore è fondamentale perché può risolvere situazioni drammatiche. Ora è chiaro che le basi che sono state trasmesse allora è intanto quella di riconoscere, di sapere individuare le persone alle quali poi vanno praticate quelle manovre. Quindi saper riconoscere quando uno è incosciente, saper riconoscere quando uno non respira e poi le tecniche di utilizzo degli strumenti, del defibrillatore in particolare. E se è opportuno conoscere le tecniche e le manovre da compiere per salvare le vite umane, è altrettanto importante fare opera di prevenzione e una buona guida. Deve sempre sincerarsi delle condizioni di salute del suo gruppo di escursionisti. Si dovrebbe innanzitutto conoscere prima gli accompagnati, i turisti che si portano, e vedere se qualcuno magari soffre di particolari diabete, cose del genere, che possono quindi favorire il presentarsi di queste situazioni. Quindi essere noi al corrente perché noi siamo responsabili degli accompagnati, dei turisti in prima persona, sia per l'assicurazione che facciamo che per il contratto che firmano i turisti. Quindi è essenziale avere una formazione del genere perché il defibrillatore in fin dei conti pesa un chilo, quindi per noi guide un chilo in più non fa la differenza, anche perché dovendo portare quel passo del turista per noi è una passeggiata perché siamo più abituati e quindi non vedo perché non renderlo obbligatorio tassativamente vista l'importanza dello strumento. Ok, perfetto.